Buonasera a tutti, questa sera a Boracom TV è all'audace caffè. Ma hai visto Martina quanta gente c'è qui all'audace? Andiamo a chiedere ad ognuno di loro come mai sono qui e se queste feste ci sono sempre. Eh, vogliamo sapere come passano questa serata i triestini in questa bellissima piazza unità. Assolutamente, andiamo a chiederglielo. Ciao!